Ciao, questo non è uno zainetto, è il magico proiettore di Winnie the Pooh. Con il proiettore di Winnie the Pooh puoi disegnare e proiettare fumetti a volontà. Come piace a te! Inventa e disegna i fumetti e poi proietta le tue avventure con il proiettore di Winnie the Pooh. Winnie the Pooh è solo jig!